La manifestazione è stata organizzata dal Centro Studi Karate, sotto la guida del presidente e direttore tecnico Vincenzo Ursino. Cintura Nera, Quinta Dance e l'Almerito Sportivo, ha patrocinato l'evento l'Associazione Italiana Cultura e Sport, grazie all'interesse del presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, il dottor Arturo Nastasi. I karateka si sono affrontati nelle prove di kata tradizionali giapponesi, specialità davvero complesse, dove la tecnica, la potenza, il bloccaggio articolare, il ritmo, l'espressività sono i parametri di valutazione che hanno decretato il vincitore finale. Si sono classificati al primo posto Pulvierenti Salvatore, Pellegrino Giuseppe, Pino Francesco, Gullace Girolamo, Commisso Fortunato, Alimachida, Albanese Domenico, Commisso Benedetta. Secondi classificati Marturano Carlo, Bennici Nicola, Sbrizzi Domenico, Gullace Maria Grazia, Ferraro Arant, Rovato Gabriel, Polito Federico, Sgambelluri Pietro. Terzi classificati Inizio Francesco, Cataldo Giulia, Lombardo Domenico, Crimeniezio, Costa Pietro, Sgambelluri Antonio, Tedeschi Alberto, Tedeschi Agostino. Il Centro Studi Karate del maestro Vincenzo Ursino sta preparandosi per i prossimi campionati mondiali di arti marziali che si disputeranno nel mese di ottobre.